Questo è il castello di Varano, costruito questo castello che è molto grande, sfortunatamente da qua si riesce a ripendere solo un lato, su un maschio, cioè un torrione, di epoca Longobarda, vedete? Si vedono ancora le mure Longobarde. Evidentemente questo era un castro romano che poi Longobardi lo hanno fortificato e poi da questo torrione ci hanno costruito il castello trecentesco ed è il proprietà del comune. Si va sull'altro lato, era inespugnabile, di là cadeva l'olio da quelle fissure. Splendido che racchiude a sé lo stile trecentesco, quattrocentesco, cinquecentesco e poi di qua ci sta un paesaggio meraviglioso sull'Apennino, Tosco e Milano. Qui il castello e di là le colline. Quattrocentesco e Milano.